Ciao a tutti da Edoardo Ferrara. Vediamo brevemente che tempo ci aspetta nella nuova settimana, premettendo che non ci sono buone notizie, perché da mercoledì tornerà una fase di maltempo a causa di umide correnti meridionali, soprattutto al centro-norde. Ma partiamo dalla situazione attuale e vediamo che tempo ci aspetta nelle prossime ore. E vedete che il martedì sarà in prevalenza soleggiato e gradevole su gran parte della penisola grazie a un temporaneo rinforzo di un campo ad alta pressione con le perturbazioni atlantiche ancora lontane. Ma attenzione perché le prime infiltrazioni umide occidentali determineranno qualche acquazzone sulle Alpi già al pomeriggio e dentro fine giornata anche sul Piemonte e la Sardegna. Sarà il preludio, come dicevo, ad un importante peggioramento che si concretizzerà a metà settimana quando una poderosa saccatura nord-atlantica affonderà sull'Europa occidentale raggiungendo addirittura il nord-Africa e quindi richiamerà avanti a sé correnti meridionali molto umide che appunto impattando sui contraforti alpino ed appenninico determinerà condizioni di maltempo dapprima soprattutto al centro-norde ma in un secondo momento anche al sud dove comunque i fenomeni risulteranno più sporadici ma soprattutto sofferà teso lo scirocco tanto che ci aspettiamo temperature simile estive proprio sulle estreme regioni meridionali con punte anche di 30 gradi. Entriamo nel dettaglio appunto delle piogge previste e vedete come anticipavo prima che sarà soprattutto al nord dei diversanti tirrenici ad essere interessati da piogge temporali, talora anche di forte intensità. Precipitazioni molto abbondanti sono attese in particolare sulla fascia prealpina, sull'Alta Lombardia, sull'Alto Piemonte e la Valle d'Aosta nonché sulla Liguria e la Toscana, quindi anche sulle aree recentemente interessate da frane allagamenti e quindi attenzione che non escludiamo qualche nuovo dissesto idrogeologico. Vedete infine come invece il sud abbia un'azione più marginale con strati e velature di passaggio soprattutto tra mercoledì e giovedì quando non escludiamo qualche locale rovescio temporale ma la tendenza verso un tempo più soleggiato a partire da venerdì e soprattutto caldo con punte di oltre 28-30 gradi in particolare sulla Sicilia. Bene, per adesso concluso vi rimando ai prossimi aggiornamenti.